Siamo di fronte alla fotocamera migliore per i creator, quelli che vogliono fare uno step successivo dal proprio cellulare e arrivare a qualità professionali pur mantenendo versatilità e semplicità. Oggi andiamo ad esplorare tutti i vantaggi e gli svantaggi di questa bellissima, tra l'altro, Lumix S9, soprattutto sull'aspetto video. Partiamo proprio dal target di questa videocamera. È stata pensata per i content creator, per i tiktoker, per quelli che fanno Instagram Reel e in generale per chi vuole mantenere semplicità e versatilità più o meno di uno smartphone. Prima però di andare nel tecnico, vediamo proprio le caratteristiche che rendono questa videocamera ottima per i content creator. La prima novità introdotta insieme a questa Lumix S9 in realtà è un'applicazione che si chiama Lumix Lab ed è veramente una bomba. Principalmente serve per spostare i file dalla fotocamera al telefono in modo super veloce. Infatti, tra i formati di registrazione che approfondiremo dopo, è stato creato un formato dedicato chiamato MP4 Lite, che va a registrare in 4K sulla fotocamera e ti dà poi la possibilità di spostarlo velocemente in qualche secondo sul telefono. Poi dall'applicazione si possono fare altre cose come il controllo remoto delle foto, se vogliamo posizionare la videocamera e fare una foto da lontano questa cosa è comodissima. E poi si può controllare tutti gli altri aspetti della fotocamera a distanza. Bellissimo questa videocamera eh, lo so, lo so. Però se sei arrivato fino a qui vuol dire che il video ti sta piacendo, quindi mi raccomando ricordati di iscriverti e lasciare like. E un'altra cosa che l'applicazione ci permette di fare è caricare sulla videocamera delle LUT custom, sia tue che di altri creator. E proprio per questo hanno creato un tasto chiamato LUT posizionato sopra lo schermo, che è comodissimo per accederci velocemente. Per chi non sa che cosa sono le LUT, in questo contesto le possiamo vedere un po' come dei filtri che vengono applicati all'immagine. In realtà è una cosa molto più complicata da spiegare, però si può semplificare in questo modo. Il tasto è molto comodo, è posizionato a portata di pollice, quindi è perfetto. Io personalmente non sono una persona che utilizza molto i filtri, preferisco post-produrre sia foto che video. Però capisco che in un contesto dove per esempio me la porto in viaggio e si presta molto ad essere portata in giro in viaggi o in avventure, magari dove non ci si può portare dietro lo zaino con tutta l'attrezzatura perché è veramente piccola, potrebbero essere comode le LUT proprio per applicare dei filtri velocemente e pubblicare velocemente sui social. Che è in realtà l'obiettivo di questa videocamera, quindi ha completamente senso questo tasto. Però c'è una cosa a livello di software che io non ho capito sinceramente. Se noi scattiamo normale, la foto è standard e va bene. Se premiamo il tasto LUT e selezioniamo una LUT, la foto è con quel filtro applicato. Ma nel momento in cui dal tasto LUT noi selezioniamo nessuna LUT, ci rimarrà un profilo colore piattissimo, che per carità può essere comodo per fare un po' di color grading. Prima ovviamente va convertito e poi colorato. Però l'unico modo per tornare al profilo colore, diciamo standard, è entrare nelle impostazioni, andare su stile foto e selezionare standard. Io non capisco perché premendo LUT non ci dava la possibilità in automatico di spostare su standard. E' una cosa solo software, quindi magari con qualche aggiornamento lo sistemano. E per concludere l'argomento LUT, in questo minuto e mezzo avevo detto 10.000 volte LUT, voglio dirvi che sono molto controllabili. Infatti se ne selezioniamo una possiamo anche regolarne l'opacità, perché magari al 100% è troppo forte, ma al 50, al 30, al 70 può andare meglio. E soprattutto possiamo mixare, unire contemporaneamente due LUT diverse, regolando l'opacità di ognuna. E' una cosa un po' macchinosa, bisogna andare negli stili di foto e selezionare My Photo Style. Puoi scendere tutto in fondo e premendo il tasto LUT vi farà selezionare la LUT che volete impostare e successivamente la percentuale di opacità che volete. E siccome avrebbero potuto fare qualcosa di un po' più semplice, soprattutto per mixare le LUT, perché comunque è un po' da smanettoni arrivarci. Ma parliamo un po' di versatilità, perché è minuscola, nel senso che io sono abituato alla mia camera rigata, con sidendo le robe, è veramente piccola e a mio parere anche abbastanza leggera. E fino ad ora l'avete vista con questo 26 mm di cui adesso parliamo, che è praticamente un tappo per la videocamera, ma in realtà ha lente intercambiabile. Tra l'altro togliendo la lente vediamo anche questo bellissimo sensore 6K che ci dà poi la possibilità di registrare in Open Gate, ma dopo lo vediamo. E avere l'obiettivo intercambiabile ci dà un sacco di possibilità, perché magari a differenza di un telefono che ha quel 24 mm, nel caso dell'iPhone il 120 mm, al di fuori di questi range sei obbligato a usare lo zoom digitale. Mentre così possiamo attaccarci un 26 mm, possiamo attaccarci un 20 e 60 o qualunque altro tipo di lente. Ovviamente questa videocamera ha la L-mount. Ho citato questo 26 mm che mi è stato mandato da Panasonic insieme alla videocamera. Li ringrazio tantissimo di avermi contattato, perché provare attrezzatura nuova è sempre utile e ti fa vedere altri punti di vista al di fuori di quello che hai tu. E poi nelle conclusioni finali vedrete che cosa ne penso davvero di questa videocamera, e mi ha stupito. Mi hanno mandato anche questo 20 e 60 mm. Obiettivo molto, molto interessante e, devo dire, abbastanza compatto. Di lenti ne abbiamo parlato, la maggior parte dei test che avete visto, che vedrete, sono fatti col 20 e 60 mm. Ma vediamo anche un po' il corpo in sé. Come si può notare non presenta un mirino, e questa cosa a me non mi interessa perché principalmente registro con lo schermino posizionato in questo modo qui. Capisco che per chi fa foto può essere un problema, soprattutto in quei contesti dove c'è tanta luce. Un'altra cosa che si nota, che manca a questa videocamera, è un grip. Infatti qua è completamente liscio e in plastica, è una specie di finta pelle questa qui. Con questo 26 mm ovviamente non c'è nessun tipo di problema, ma già quando mettiamo un 20 e 60, che non è troppo grande, pensando a un teleobiettivo, però è abbastanza grande e abbastanza pesante, già la videocamera inizia a scivolare. L'unica specie di grip che c'è è questo coso qua per il pollice, ma per il resto qua è una specie di pelle finta in plastica e quindi la mano scivola. So che c'è un grip della Smorrig che può essere comprato e sicuramente fondamentale. I pulsanti ovviamente sono quelli classici della videocamera. Oltre al tasto latto abbiamo il tasto dell'autofocus, la ghiera qua sotto, che forse è un po' piccolina, ma a me non mi ha mai dato fastidio. L'unica cosa che non avrei fatto era il tasto del menu in mezzo alla ghiera, perché per esempio quando aprite la galleria e provate a premere play in realtà si apre il menu, questa cosa non ha senso. E poi abbiamo i quattro tasti esterni attorno alla ghiera che sono un po' troppo sottili. Probabilmente chi ha un pollice molto grande fa fatica, io non ho mai avuto problemi. E so probabilmente diaframma, tasto per avviare la registrazione, tasto per fare le foto che in realtà avvia anche la registrazione e ghiera delle modalità. Concludiamo il corpo parlando delle porte, infatti ha il jack per il microfono e dall'altra parte ha l'USB-C e il micro HDMI, giusto quelle essenziali. Ma quindi, come registra questa Lumix S9? Allora, intanto partiamo da una caratteristica molto interessante, ovvero l'open gate, che ci dà la possibilità di sfruttare il sensore 6K a tre mezzi. E catturando tutto il sensore, noi poi in post possiamo croppare in verticale, orizzontale, quadrato, in tutti i formati che vogliamo. Ed è comodissimo in tutti quei contesti dove non sappiamo se andremo a utilizzare il video per il verticale, per l'orizzontale, per entrambi. Però, come ho accennato all'inizio, il formato scommo è perfetto per questa videocamera è l'MP4 Lite. Nel caso siate ovviamente content creator o volete utilizzare i video per i social. Ci sono poi altri due formati, ovvero il classico MP4 e il MOV, che ci dà poi accesso a una serie di risoluzioni diverse. Le principali sono sicuramente il 6K a tre mezzi e il 4K a 50 o 25 fps, a seconda se volete lo slow motion o meno. L'autofocus, devo dire che mi ha stupito molto, è la prima volta che utilizzo una fotocamera Lumix. Infatti ci ho messo un po' a capire come funzionava, ma in realtà con un video di 3-4 minuti su YouTube capite perfettamente il funzionamento. Con il tastino qua a sinistra della ghiera possiamo selezionare la modalità e possiamo anche attivare il tracking con 2000 soggetti, moto, auto, persone, treni, aerei e animali, credo, credo questo. Ed è proprio il tracking che mi è piaciuto molto perché tracciava perfettamente quello che sceglievi. Arriviamo però alla parte scottante. Quali sono i problemi di questa videocamera? Perché ovviamente non è la videocamera perfetta. E questi problemi girano un po' tutti attorno al target di destinazione di questa videocamera, ovvero il content creator. Partiamo dal menu. Ne ho visti tanti o di menu. Sony, Canon, Fuji, Blackmagic. E devo dire che questo menu è molto organizzato, ha le cose suddivise correttamente e si trova abbastanza tutto in poco tempo. Questo per me però, che sono un videomaker più o meno, in realtà non so tutto, però più o meno le cose nei menu le conosco. Mi immagino un content creator che compra questa per sostituirla al proprio telefono. Abituato al telefono dove apre la fotocamera, preme play, registra, qua se apre le impostazioni è un disastro perché vede 422, vede un selettore tra APS-C e full frame e altre mille cose come il bilanciamento del bianco, anche solo gli stili, i colori che sono stati progettati apposta e potrebbe rimanere molto confuso. Secondo me avrebbero potuto fare due menu. Uno per il content creator dove ti dà l'opzione di scegliere magari la qualità di distruzione, gli FPS e altre due o tre cose. E uno per gli smanettoni, perché non voglio usare la parola professionisti, proprio perché questa videocamera non è improntata ai professionisti, dove c'erano poi tutte le impostazioni. Ho detto che non è improntata ai professionisti, intanto anche solo per com'è costruita perché è molto leggera, non ha il grip, non ha il mirino e non credo possa essere utilizzata da sola in contesti professionali, però può essere un'ottima B-cam. Se avete già altre videocamere Lumix e state cercando una B-cam che però sia anche versatile in altri contesti, questa è sicuramente la soluzione. Se io avessi il parco lente con la L-Mount e stessi cercando una videocamera che sì mi serve sui set perché ha una qualità pazzesca, però allo stesso tempo voglio una videocamera anche leggera che mi posso portare in giro in una vacanza, questa qua sicuramente è la soluzione ottima. Il secondo punto è il prezzo che potrebbe risultare un po' altino, infatti la trovate se non mi sbaglio a 1699 euro, senza la lente e se volete anche il 26 mm sono in teoria altri 200 euro. Sicuramente la potete trovare in bundle e in robe simili e in offerta, però comunque è un prezzo abbastanza alto. Tra l'altro non l'ho detto prima ma oltre a questo tappo per la videocamera 26 mm è stato progettato un altro obiettivo fatto per questa S9, ovvero un 18-40 molto compatto, dovrebbe essere l'obiettivo zoom più leggero e compatto del mondo. Ed è un 18-40 mm f4.5 6.3 ed è sicuramente molto più interessante di questo 26 mm e è un buon sostituto a questo 20-60. In conclusione mi sono trovato benissimo, soprattutto col 26 mm è stra leggera da portare in giro ma anche col 20-60 vi assicuro che è comodissima. Io mettevo la strappa alla videocamera e la tenevo a tracolla, non mi accorgevo quasi neanche di averla. Direi che è anche ottima per content creator e semplicemente gente che fa TikTok real o gente che vuole avere una ottima qualità sui propri social o per l'appunto per chi vuole avere qualità migliore del telefono rimanendo abbastanza versatili e compatti. Come ho detto prima dal punto di vista professionale c'è qualcosa che non è il massimo, però sicuramente come Bcam può essere un'ottima soluzione. Ringrazio voi di aver guardato questo video, ringrazio Panasonic e Lumix Italia che mi hanno mandato questa videocamera insieme alla lente e mi hanno dato la possibilità di scoprire un nuovo mondo che è molto interessante, quello di Lumix. Se non l'avete ancora fatto lasciate un like ed iscrivetevi e noi ci vediamo ad un prossimo video.